Musica Quello della nautica è un grandissimo mondo e a soddisfare tutte le esigenze di questo mondo pensa a Enjoy River, io sono con Matteo Dighiero che è uno dei responsabili all'interno dell'azienda Dubbiamente Enjoy River è un grande network, nel senso è un polo nautico all'interno del lungo fiume di Pescara Enjoy River si presenta come una struttura all'interno della quale c'è dal ristorante al cantiere alle banchine in progetto c'è addirittura di ampliare introducendo un benzinaio e tra le cose degne di nota indubbiamente c'è che da quest'anno siamo in maniera forte e presente con un marchio forte nella nautica soprattutto che è Volvo Penta Musica Sono importanti di questi tempi la qualità dei servizi che vengono offerti con un occhio di riguardo ovviamente ai costi per cui il servizio deve essere inteso un po' come un global service insomma Musica Susanna Grancalli è la titolare di Enjoy River Quali sono i buoni motivi che Enjoy River riesce a suggerire a tutti gli amanti della nautica? Allora noi innanzitutto diamo un ottimo servizio sia a livello cantieristico con il marchio che noi oggi rappresentiamo della Volvo Penta e inoltre oltre ecco a essere un'officina autorizzata anche con la Darsena ai servizi del nostro club diamo un servizio a 360 gradi al cliente Musica La prima cosa che il diportista trova da noi è un'accoglienza familiare ma anche professionale quindi trova anche la professionalità nello staff dell'Enjoy River qui abbiamo un punto di relax dove il cliente si può rilassare abbiamo un club dove il cliente può mangiare Musica Mentre il diportista si rilassa e gode di un'ottima ristorazione dall'altra parte il mezzo invece trova un'ottima assistenza tecnica grazie a Volvo Penta quindi con i nostri meccanici specializzati Musica Io sono con il responsabile dell'area adriatica che è per Volvo Penta che è Jacopo Fusaro cosa cerca l'appassionato di Nautica quando entra all'interno di Enjoy River dal punto di vista dell'assistenza nautica che Volvo Penta riesce a soddisfare alla perfezione Il diportista cerca di godere della sua barca quindi di avere un mezzo che gli permetta di divertirsi e la rete delle assistenze autorizzate Volvo Penta permette proprio al diportista di godere appieno e di non doversi preoccupare dei motori Enjoy River è una struttura che permette al diportista e alle barche motorizzate con i motori Volvo Penta di non doversi preoccupare un servizio chiave in mano di personale formato presso Volvo Penta e soprattutto appassionato di motori La tecnologia dei motori marini e Volvo Penta ha avuto un'evoluzione importante per cui sempre più spesso i motori a controllo elettronico può succedere che si accenda una spia e chi è a bordo della barca dice ah mi si è accesa una spia cosa è successo ecco che Enjoy River con l'attrezzatura specifica per i motori Volvo Penta è in grado di collegarsi, fare un check completo per spiegare non solo cosa è successo ma eventualmente riparare e dare dei consigli all'armatore su come eventualmente evitare possibili situazioni che possono fare in modo che il problema si ripeta tutto si può inventare ma un matrimonio non si può più un messico è nulla Enjoy River è in grado di seguire il cliente prima ancora che sia un cliente Volvo Penta in modo tale da accompagnarlo anche nella scelta dell'eventuale motorizzazione perché è fondamentale fare in modo che a bordo della propria barca ci sia il motore più adatto alle proprie esigenze per il tipo di utilizzo, per il tipo di barca, per come si vuole godere il mare Enjoy River è in un'ufficina in grado di soddisfare i clienti ancora prima che sia un cliente Volvo Penta venite, venite, venite in Volvo Penta e a Pescara Volvo Penta Enjoy River vi aspettiamo a braccia aperte 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 Grazie a tutti.